Musica Studio 7 TV Primo ritrovo per la CBF Balducci Elvia Recina Macerata Un primo incontro informale per accogliere le nuove ragazze Che si affiancheranno alla base del gruppo della passata stagione In vista della prossima Serie 2 Alla vigilia della ripresa dei lavori dunque si alza il sipario Quali sono le sensazioni nel ritrovarsi qui dopo tutti questi mesi? Beh guarda Corrada, hai detto la parola Una sensazione incredibile, sembra che sia la prima volta Come il primo giorno di scuola quando sai Devo andare a scuola e non ci sono mai andato E' bello, è bello soprattutto perché? Perché sembra che ritorniamo alla vita E' bello, sto vedendo quello che Parte lo staff che abbiamo avuto la fortuna da riconfermare Lo staff sia sanitario che tecnico che fisiatrico Tutto quello che ne rende Però queste ragazze, sia quelle dell'anno scorso che queste nuove C'è un ambiente che anche loro stesse le vedo felici Perché non vedono l'ora di ricominciare Tutti insieme per far quello che insomma ci piace più nel profondo del cuore Fare palla a volo Un'occasione questa proprio per ritrovarsi anche per conoscere Per le nuove arrivate lo staff e anche chi rende possibile tutto questo Sì è vero, potremmo fare anche una presentazione diversa Abbiamo ritornato l'opportunità di farla in questo modo Proprio per far conoscere tutto quello che è il cuore buzzante di questa società Quindi dallo staff e tecnico a tutti i dirigenti A tutte le persone che lavorano ognuno con il proprio ruolo Per far sì che questa CBF Valducci HR Macerata Quest'anno si possa togliere tante soddisfazioni Come del resto siamo stati fortunati gli ultimi anni Chiaramente anche un ringraziamento per chi ci ha fatto arrivare Che al momento non ci sta Però un ringraziamento per gli sponsor che ci ha dato una mano fino ad arrivare qui E poi sempre chiaramente dal grande dito Come la giornata di oggi che sembrava che veniva il diluvio E invece c'è il sole e c'è una bella giornata No, è una bella cosa Proprio per far capire a queste ragazze Anche che vengono da esperienze diverse Che questa è la società Che fondamentalmente è un'azienda È una società seria Ma fondamentalmente c'è il cuore delle persone Che ci mettono anima e cuore Perché deve essere come una grande famiglia Una considerazione conclusiva È molto importante questo entusiasmo Perché ci sono ovviamente molti punti interrogativi all'orizzonte Sì, sì Ma diciamo che sappiamo tutti Benissimo che il gruppo, la squadra E se si inizia bene Se sopporta tante cose Poi ecco Ricordiamoci che quest'anno abbiamo tutti Bisogno l'uno all'altro Perché bisogna rispettare effettivamente delle regole Perché? Perché il Covid ancora non è completamente distrutto Quindi c'è Bisogna sapere che c'è Bisogna stare attenti Nelle utile maniere Specialmente per loro che fanno Sicuramente con le mascherine Faranno difficoltà Però penso che con qualche riposino in più Con qualche sosta in più Durante le regole Noi cercheremo di fare il possibile Per attenerci a tutte le varie regole Poi però come dicevo Speriamo che Se possa iniziare con il pubblico Con tutto il calore Perché lo sport in generale Senza pubblico Non è sport Studio 7 Come detto C'è un nemico In questo caso il Covid Da debellare Per far ritornare Il pubblico Al palazzetto Per poter giocare Con le porte aperte Quindi Sarà importante Ci sarà una responsabilità ulteriore Nel rispettare Le normative I protocolli Del caso in allenamento Sì per quello che Che ci riguarda Sicuramente In allenamento Avere delle attenzioni Minime Che ovviamente Facendo uno sport di squadra Sono davvero complicate Da attuare In alcune situazioni Però per quel che possiamo Ovviamente Dobbiamo fare Tutto il necessario E poi come dicevo prima Le ragazze comunque Devono essere attente Nella loro vita sociale Ad avere delle attenzioni Particolari Perché il momento È particolare per tutti Non sappiamo ancora Ben di preciso Quando questi protocolli Verranno aggiornati C'è ancora un po' Di confusione Di incertezza E a livello federale Stanno ragionando Per poter provvedere Quanto prima Però ancora Non ci sono delle linee Diciamo Definitive O diverse Da quelle che erano state Emesse Circa un mese fa Parlando della squadra Ora inizia il lavoro Per plasmare questo gruppo Cosa chiede alle giocatrici? Ma alle giocatrici Chiedo di iniziare Con entusiasmo Perché non può essere Altrimenti Ovviamente Pensiamo di aver costruito Un buon organico Poi Sarà il campo A dire L'effettiva qualità Di questo gruppo E poi Come dico sempre Sarà estremamente importante La loro capacità Di rapportarsi E di creare la squadra Ecco Perché poi Quell'aspetto là Puoi mettere insieme Le giocatrici più brave Che ci siano in circolazione Ma se poi Non funziona Quell'alchimia Le cose Non vanno Parlando del campionato Ci sono alcuni dettagli Ancora da definire Ma che campionato Sarà questa Serie A2? Credo che sia un campionato Che è molto competitivo Ci sono tante realtà Che hanno costruito La loro squadra Con l'ambizione Di puntare Alle posizioni Di vertice Ci sono diverse Giocatrici Che sono scese Dalla 1 E quindi Questo sicuramente Alza il livello C'è un'incertezza Sulla composizione Di gironi Perché Trento È stata Promossa D'ufficio Poche settimane fa E quindi Bisognerà capire Come verrà Colmata Questo vuoto Per il resto Credo che Si siano Predisposti Due gironi Molto Equilibrati Ora si inizia Davvero a lavorare È facile immaginare Che l'entusiasmo È tanto Sì L'entusiasmo è tanto Anche perché Aver terminato L'anno scorso Senza Avere la possibilità Di capire Quello Che si poteva Effettivamente Meritare Nel bene o nel male Ha lasciato comunque Un vuoto Poi anche il fatto stesso Di come Non ci siamo potuti salutare Ha lasciato un po' Una situazione Una situazione strana Paradossale E quindi ovviamente C'è tanta voglia Di ricominciare A vivere la squadra Perché è un momento Comunque Estremamente Coinvolgente Studio 7 TV E quindi Grazie a tutti Grazie a tutti